Fabrizio Corona ha perso la testa per Asia Argento, il gossip di signorini A volte, tra una disgrazia e laltra, può capitare di incontrare lamore. Ed è questo quello che è successo ad Asia Argento e Fabrizio Corona? Ecco la verità Sembra una coppia impossibile, eppure il gossip che vede i due insieme diventa sempre più reale. A diffondere la voce lopinionista del grande fratello VIP, Alfonso Signorini. Corona e Asia Argento insieme In molti avevano ipotizzato che Fabrizio Corona avesse un'altra, ma Asia Argento era uno dei nomi in fondo alla lista dei papabili nomi. Con Belen Rodriguez o con Silvia provvedi quindi, nessun ritorno di fiamma. Le minestre riscaldate non sono per il paparazzo. Secondo la rubrica chicche di gossip, del settimanale Chi, l'ex paparazzo dei VIP si sarebbe sempre più vicino alla bella Asia che come tutti sanno non sta attraversando un bel momento. L'attrice figlia del regista horror Dario Argento negli ultimi anni, ha avuto un grande dolore sia con la morte del suo compagno Anthony Bourdain sia con lo scandalo Jimmy Bennett che un po' le ha rovinato la reputazione. Dopo aver denunciato gli abusi del produttore americano Harvey Weinstein è stata proprio lei nel mirino dell'accusato. Secondo Chi, l'avvicinamento tra i due sarebbe palese dal momento in cui entrambi, sui social, si scambiano insistentemente l'iche ai propri post. Entrambi sono personaggi molto controversi, sarà questo chi li ha uniti? Potrebbe essere tutto non è da escludere nulla ma per adesso nessuna conferma né dall'una né dall'altra parte.